buongiorno a tutti sono emiliano rozino del giornale la voce oggi abbiamo un ospite nei nostri studi che il segretario cittadino del partito democratico di chivasso massimo corciore ciao 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 buonasera allora massimo corciore ti ho già presentato se il segretario cittadino del partito democratico che è il partito di maggior peso che sostiene l'attuale amministrazione chivasse intanto vabbè è un po che non ci sentiamo poi ti chiedo come stai io bene grazie direi che non mi la mento e come sta l'amministrazione comunale di chivasso ti faccio questa domanda perché siamo alla metà del mandato è tempo di bilanci dal secondo mandato del sindaco castello e i bilanci li fanno tutti quanti li starete facendo anche voi come sta in salute non in salute in forma ma io direi che io direi che l'amministrazione castello gode di ottima salute sta portando avanti diversi progetti quindi credo che sia un'amministrazione che stia lavorando per la città nonostante le difficoltà ultimo lo sappiamo tutti il patto di stabilità che inciderà sui bilanci con minore risorse da parte del governo quindi questa è una cosa che nel tempo e nel medio periodo comunque porterà delle difficoltà all'azione di governo però è un'amministrazione che viaggia soprattutto su due parole cardine che sono la lealtà e la correttezza e con questo spirito stiamo andando avanti bene come legislatura dal mio punto di vista e penso che si potrà proseguire con diversi diversi appuntamenti diverse progettualità che verranno messe in campo e che troveranno la luce anche nel periodo claudio castello ha fatto i primi cinque anni di mandato passata legislatura adesso sta facendo il sta facendo i secondi cinque anni è arrivato a due anni e mezzo dopodiché chiuderà la sua esperienza amministrativa almeno come candidato sindaco e come sindaco della città di chivasso ti chiedo è cambiato claudio castello dal primo mandato al secondo mandato oppure no secondo te sì claudio è sicuramente cambiato a consapevolezza e chiaramente ha acquisito anche una certa dimestichezza con la macchina comunale quindi di fatto si cresce inevitabilmente con l'esperienza si cerca di migliorare quindi dietro di lui chiaramente c'è una squadra che lo supporta e che riesce comunque dal mio punto di vista o almeno cerca di dare il massimo per le esigenze di questa città ecco prima stavi parlando stavi facendo un accenno a quelle che sono le progettualità future secondo te che cosa andrebbe ancora fatto durante questo mandato per la città di vaso insomma quali sono le priorità che vi siete dati ma allora intanto partiamo dal concetto e dal presupposto che tanto è stato fatto cioè questa amministrazione ha ed è riuscita a cogliere diversi milioni di euro dal con i progetti pnr e questo è un dato non scontato ma ti cito due tre cose fatte come e che vedranno la luce a breve per esempio il teatro altra cosa la il completamento di corona verde ma potrei dirti una delle cose che differenziano questa amministrazione dalle altre può essere anche semplicemente se così lo vogliamo definire il sistema fognario questa è un'amministrazione che politicamente si contraddistingue perché il sistema fognario sappiamo bene tutti che non l'ha mai voluto fare nessuno semplicemente perché non si vede cosa state facendo adesso a proposito di interventi sul sistema fognario se vogliamo citarne un paio e innanzitutto tutte le frazioni e in ultima anche quella dei pugliani mi pare che siano verranno ablacciate i pugliani mi pare che sia l'unica frazione che momentaneamente rimane esclusa ma ripeto momentaneamente perché stanno già lavorando per allacciare al sistema fognario anche la frazione pugliani quindi tutte le frazioni di chi va so godranno di un sistema fognario e dico io finalmente perché c'è una bella differenza per chi vive in frazione tra avere la fossa imoc e avere un sistema fognario funzionante ed efficace è chiaro che la differenza è di carattere anche scelta politica perché fare le cose che non si vedono sono paga ed è una scelta forte ma è meglio fare ciò che paga o ciò che è giusto politicamente preferisco fare ciò che è giusto secondo te ovviamente l'amministrazione sta portando avanti quel ciò che è giusto e porterà avanti questa linea fino a caso questo caso direi ciò lo accennavo prima claudio castello chiuderà la sua esperienza da sindaco nel 2027 quando la città di chi va sopra di nuovo al voto può essere prematuro parlarne ma in realtà chi va su una realtà importante con 30.000 abitanti un dibattito su chi dovrà raccogliere l'eredità del sindaco del sindaco castelli immagino che sia già iniziato non ti chiedo se ci sia un nome o almeno un profilo di che cosa quali sono gli valori che deve avere il futuro candidato sindaco del paletto democratico in questo caso te lo chiedo come rappresentante del paletto democratico che deve avere allora innanzitutto non c'è ancora nessun dibattito i valori sono insiti sostanzialmente in quelli che sono i valori del partito democratico e di tutta la coalizione oltre ad essere persone rette moralmente giuridicamente insomma è chiaro ed evidente che occorre avere una visione che occorre sposare quella visione che da 15 anni a questa parte il centro sinistra porta avanti per la città l'attenzione verso il verde non ci dimentichiamo appunto corona verde piuttosto che gli amici del po e il grande lavoro che è stato fatto in quell'area e potrei citare l'attenzione anche allo sport con i nuovi buoni sport per esempio lì bisogna migliorare sì sono d'accordo se me lo chiedi te lo dico proprio francamente un aspetto che bisogna migliorare ma ci si sta lavorando fortemente potrei citarti il piano regolatore anche quello un'altra cosa che c'eravamo riproposti di fare e che stiamo portando avanti oppure il polo logistico il lavoro non è una cosa scontata soprattutto in questo periodo eppure il polo logistico mi risulta che il 30 mi pare ci sarà una riunione ormai siamo alle fasi tecniche e quindi partiranno con i cantieri e lì sono 600 possibili lavoro è una cosa banale quindi il nuovo profilo quale deve essere di una persona retta corretta che abbia una visione che sposi la visione che da tempo ha creato il centro-sinistra attraverso il percorso portato avanti da diverse persone c'è un percorso che iniziato lo ricordiamo con nel 2011 con una breve parentesi con de mori poi si è proseguita in ciuffreda e poi proseguita con questi due mandati di castello se proseguisse con il vice sindaco pasquale centine è un'ipotesi a pasquale come tanti altri e io spero non sia l'unico ma sicuramente pasquale è una persona che ha tutte le carte in regola per poter fare il candidato sindaco ma ripeto mi aspetto che non sia l'unico perché credo che ci siano più persone che hanno a cuore la città di chivasso ma sicuramente pasquale è sicuramente una di quelle persone che ha tutti i titoli per poter ambire ad un incarico di questo tipo posto che lo voglia fare perché attenzione anche lì non è detto che poi uno lo voglia fare e questo è un altro dibattito non indifferente governare una città è un impegno importante è un qualcosa che non sempre corrisponde alle nostre aspettative o per alcuni invece è un qualcosa di talmente come dire vago che ci si buttano senza saper minimamente a che cosa vanno incontro è una responsabilità grande e secondo me bisogna avere una squadra forte coesa e soprattutto leale per poter portare avanti i progetti che si hanno in testa ok adesso ci siamo spinti un po in là con i con i ragionamenti abbiamo parlato di quello che potrà essere da qui a due anni e mezzo tornando all'attualità un po più stretta un po più un po più spiccia sul sul nostro giornale abbiamo parlato di un dibattito che sarebbe aperto all'interno del partito democratico per la per un cambio così di guida all'interno del consiglio comunale siamo andati a riprendere un regolamento del consiglio che fondamentalmente sta viva che a metà mandato ci sia un passaggio di consegna della presidenza e siamo arrivati alla metà del mandato intanto ti chiedo alfonso perfetto che presidente del consiglio alfonso perfetto è un presidente del consiglio che in questo periodo ha posto l'attenzione sul ruolo centrale e di tutela sia dell'opposizione che della maggioranza penso che si sia speso bene nel cercare di ascoltare le esigenze sia degli uni che degli altri cercando anche come dire un mestiere non facile e lo posso dire perché avendolo fatto in situazioni abbastanza pesanti ricordo insomma era appena scattata l'operazione minutauro quando io ero presidente del consiglio alfonso devo dire che è riuscito e sta riuscendo bene in questa opera di ascolto tra maggioranza e minoranza opera ripeto di non semplice e non banale fattura quindi credo che sia lavorando come tutti nel tempo è migliorato perché come tanti se si ha voglia di imparare se ci si mette a disposizione e si studia chiaramente si migliora esiste questo dibattito o no per la sua successione nel senso che il nome di cristina peroglio indicata come possibile presente il consiglio da qui alla fine del mandato è un eventualità che c'è non c'è cosa ne pensi è giusto continuare dicci la tua proprio sinceramente guarda con tutta franchezza non c'è il dibattito per il semplice motivo che per quanto mi riguarda come segretario o coordinatore del partito democratico io non ho ricevuto nessun tipo di istanza in tal senso non l'unica cosa che ti posso dire è che rispetto all'articolo che io ho letto non c'è alcun tipo di accordo perché nonostante il sottoscritto abbia proposto a cristina di fare il secondo mandato subito finite le elezioni questa proposta era stata rifiutata dalla dalla candidata il sottoscritto ed il sindaco gli hanno anche proposto di fare il l'assessore ma a causa di problemi legati al lavoro e alla famiglia che comprende giustamente non ha potuto comunque intraprendere nemmeno questo tipo di percorso è chiaro ed evidente che è lecito potersi potersi candidare questo se sono cambiate le condizioni lo vedremo ma io ad oggi non ho nessuna nessuna questione sul sul tavolo quindi per quanto mi riguarda c'è un problema e non c'è nemmeno un dibattito quindi francamente chiaramente sono tutti nelle disponibilità hanno tutti le caratteristiche per poterlo fare però è chiaro che se non c'è un'apertura non c'è una richiesta di dibattito non vedo perché doverlo doverlo aprire poi da lì si valuterà chiaramente anche il gradimento della di una persona piuttosto che di un'altra però ad oggi il problema io non esiste ok no non è che è stato sottoposto quindi l'ho appreso dai giornali e francamente siccome c'erano delle imprecisioni come c'è stato un accordo no non c'è stato questo accordo è stato proposto ma rifiutato quindi lo sottolino perché poi se no è anche brutto nel solco della lealtà e della correttezza fare apparire il presidente del consiglio come una persona che magari non rispetta un accordo una parola data quando questa non c'era non lo troverei corretto nei suoi confronti ecco il primo argomento ha fatto premesso che ognuno è libero di andare a mangiare la pizza con chi vuole non andare al ristorante di farsi un aperitivo un caffè con chi vuole con chi vuole però ha fatto un po discutere la pizza che avete preso avete mangiato insieme tu a scuole centina libero ciuffreda e claudia buo ha fatto discutere perché nell'ultimo periodo liberamente democratici è stata principali diciamo così critici nei confronti dell'amministrazione comunale intanto ti chiedo ma chi è che chi è che ha fatto partire l'invito che a è venuta l'idea di andare a mangiare una pizza perché chi ha passato anche curioso di sapere che se avete fatto se ognuno ha pagato per sé oppure ha ricevuto un invito a partecipare a questo incontro dal dal da liberamente e come segretario del partito democratico non non ho non ravviso nessuna motivazione per cui non andare ad ascoltare chiunque se vuoi ti do una notizia breve andrò a mangiare la pizza anche con clara marta ti chiedo chi ha pagato la cena alla romana alla romana e di cosa avete parlato ma francamente abbiamo cercato di capire se c'erano dei punti di convergenza a livello nazionale rispetto a appunto temi di grossa caratura e francamente non è che ci siano delle grandi diversità da questo punto di vista se parliamo della pace nel mondo se parliamo del di fare un referendum abrogativo non vedo quale c quale problema ci possa essere hanno già visto vicini ad esempio nella raccolta delle firme quindi di sicuro quello che a livello locale avete parlato un po di quello che resta quello che resta è che la maggioranza attuale rimane questa e da qui si parte quindi da questo punto di vista non c'è nulla di nuovo sotto il sole la maggioranza è questa e questa rimane poi da qui in avanti insomma in politica e la politica è l'arte del possibile quindi io non mi precludo alcuna strada e alcuna via ma è chiaro che ci ci devono essere poi eventualmente dei percorsi da da fare non è così banale perché le parole utilizzate hanno un peso e chiaramente dietro alle parole dietro alle persone che vengono colpite dalle stesse parole ci sono delle famiglie ci sono ulteriori persone ci sono dei figli e quindi insomma non è io non sono una di quelle persone che immagina la politica come quel campo largo dove si possa dire la qualunque perché stiamo facendo politica e nello stesso tempo continuare a dire che la politica è una cosa e fuori dalla politica siamo un altro io sono così quando faccio politica e quando non faccio politica io sono così sempre quindi non è giustificato e non è giustificabile poi ci si può sbagliare si si può sbagliare in politica come nella vita non c'è nessun problema ma è chiaro che pensare che io possa dire la qualunque perché in quel momento sto solo facendo politica non fa parte del mio pensiero messaggio chiaro e come penso che sia chiaro anche il messaggio ai tuoi ai vostri compagni di coalizione che sono che sono noi per chi vasso e sinistra ecologista che hanno avuto un incontro la scorsa settimana insomma volevo chiederti se ne eri al corrente insomma che cosa cosa ne pensi se fanno bene se fa parte della politica si guarda anche questo ho esordito prima dicendo che questa amministrazione ha iniziato il suo percorso con due parole chiave io ho ricevuto sia da De Bernardi sia da Pasteris un avviso dove mi diceva guarda abbiamo intenzione di incontrarci di parlare e poi fare un riassunto anche con te io non ci trovo nulla di né di errato né di chissà quale stratagemma dietro non ci sono problemi perché comunque quando si è corretti e reali non si fanno le cose per cercare di mettere in difficoltà qualcun altro né di più né di meno quindi nel momento in cui ho incontrato insieme a Pasquale una forza politica di opposizione chi sta che gli altri si interroghino ma ci mancherebbe pure e ci sta che ci sia un confronto con chi in questo caso con il sottoscritto e lo abbiamo avuto ieri tanto per dire tracciando le linee guida da qua alla fine della legislatura e possibilmente anche oltre quindi francamente credo che questo sia la soluzione vera nel modo di fare politica cioè quando si è leali e corretti il resto viene da sé perché le cose te le dici per come le pensi e per come le hai vissute e se non ci sono problemi di sorta e se non c'è una volontà di consentimi il termine di fregare l'altro lo si capisce ok chiarissimo anche in questo concetto l'ultimissima cosa e poi chiudiamo una domanda te la devo fare sul sul calcio chi va a sese sul fatto che ha fatto discutere ho fatto notizia diciamo così il tuo interesse verso il calcio qui a chi va a sese in atto ti chiedo questo interesse nasce per il nasce tu hai fatto il calciatore però nasce per il fatto che hai trovato un vuoto cioè pensi che debba essere colmato qualcosa qui in città insomma non c'è bisogno di una presenza superiore da questo punto di vista spiegaci un po allora che faccia discutere che massimo corcione si interessi di calcio mi viene da sorridere ma credo perché guarda te la do una notizia che magari vi siete persi ma io a 18 anni aprivo la sezione scout a chi vasso che c'è tutt'oggi ok ed ero già nel partito democratico mi candidai con la palumbo quindi figuriamoci però oggi fa discutere perché massimo corcione che si è sempre interessato di sociale si rende conto insieme ad altre persone che da sempre si occupano di sociale che c'è un vuoto e un'esigenza all'interno della propria città guarda credo che sia nella normalità da parte di chi si occupa della città da tanti anni comprendere cercare di individuare quali sono le esigenze di una società noi in due settimane la urs la chi vasso fa 60 iscritti senza docce senza luce quindi vuol dire che un'esigenza sociale forte di aggregazione per questi ragazzi c'è e come ecco e questo è la cosa che ci ha spinto noi poi non siamo né a favore né contro nessuno noi crediamo che ci sia un'esigenza abbiamo creato un progetto che è un calcio sociale anche lì l'abbinamento di calcio e sociale nasce da noi quattro che ci ideamo un qualcosa che non ha come unico scopo il gioco del calcio tant'è che in questa società ci avranno dei servizi ragazzi che altro che terza categoria non ce li avranno neanche in serie di avremo un mental coach che non ha nessuno oltre al massaggiatore dedicato oltre a un'equipe selezionata per i loro allenamenti cioè c'è un voler dare un qualcosa di più perché il calcio non sia soltanto un gioco per 11 persone dietro a un pallone ma sia un'identità quest'identità negli anni in questi anni si è un po persa però guarda per come per come l'ho vissuta io in questi anni io solo ho trovato persone che hanno avuto gli impianti ha avuto delle possibilità e che forse se ne sono giocate male io non non mi sento di criticarli perché probabilmente l'idea era quella di fare calcio e ci sta le società di calcio funzionano così faccio una squadra seleziono solo i migliori sono i migliori vanno avanti solo quelli giocano solo quelli devono vincere cioè l'idea è vinco il campionato ok invece l'idea l'idea vostra qual è l'idea non c'è prima faccio squadra e vorrei avremmo l'ambizione ecco diciamola così avremmo l'ambizione di far comprendere che è più importante e più importante il gruppo per con cui gioco le persone con cui mi ritrovo l'unità di queste persone e il piacere di giocare la vittoria semplicemente una conseguenza non è il fine ultimo il fine ultimo è uscire da quel campo col sorriso il resto viene da sempre né di più né di meno l'ultimissima domanda poi poi chiudiamo perché siamo andati abbiamo sforato ampiamente volevo solo chiederti se voi avete partecipato già ad un bando del comune per ottenere la gestione del campo del campo pastore hanno visto la selezione c'era una società a nessuna della nessuna delle tre il comune ha pubblicato sta pubblicando un altro bando parteciperete immagino ovviamente se non dovesse dar bene neanche questa volta progetto continua progetto va avanti perché per noi sono fondamentali i ragazzi cioè oggi abbiamo non solo 60 ragazzi diciamo under 18 e prima squadra abbiamo anche dei bambini la volontà di venire giocare e fare è grande e alta l'aspettativa è forte quindi francamente credo che una qualunque amministrazione non possa non tenerne da conto poi dopo di che noi una soluzione la troveremo perché siamo chiamati alla responsabilità